è cieco del Caravaggio, non cieco da Caravaggio. In questa differenza apparentemente rilevante di preposizione è nascosto in realtà un intero mondo, è proprio la chiave che ci permette di aprire la sua storia. Stavolta non siamo di fronte a un pittore che prende il suo nome da un luogo, il paese di Caravaggio appunto a cui era originariamente legato, ma stiamo parlando di un uomo che prende il nome con cui è conosciuto dal legame indissolubile che aveva con il Caravaggio pittore Michelangelo Merisi, il suo ingombrante e geniale maestro, nella nostra contemporaneità diventato ormai un'icona assoluta della storia dell'arte. L'allievo, volgendo al maschile il titolo di un famoso romanzo contemporaneo con tutte le sue implicazioni del caso, oggi parliamo di lui, cieco Francesco, un comprimario della storia dell'arte che per la prima volta si prende in una mostra la ribalta normalmente destinata al suo mentore. Quella in corso a Bergamo è infatti la primissima mostra dedicata a questo artista rimasto nelle cronache col nome di cieco del Caravaggio. Abbiamo avuto modo anche di recente tante volte in questo canale di parlare di che grosso seguito abbia ottenuto il Caravaggio artista, di quanti si possano annoverare tra suoi allievi diretti, suoi seguaci indiretti, suoi emuli in tutta Europa a partire da Rembrandt nell'area olandese. Ma se parliamo di cieco da Caravaggio non stiamo parlando solo di un suo seguace artistico, cosa che comunque lui è stato, ma di qualcuno che è stato molto importante anche nella vita di Caravaggio. È stato anche nella vicenda biografica e umana di Caravaggio una persona molto vicina a lui, il garzone diventato modello, diventato amico, diventato compagno e diventato infine artista a sua volta. E come nei dipinti di Caravaggio per cui tante volte cieco ha fatto da modello nel corso della sua vita, la mostra di Bergamo, per la prima volta permette a cieco del Caravaggio di uscire dall'ombra del maestro, restituendogli anche finalmente il suo nome e cognome. E tra l'altro al di là degli scherzi parliamo di vera ombra, nel senso che la vita di cieco di Francesco è rimasta per secoli un po' nell'ombra, è forse misteriosa tanto quanto la vita di Caravaggio ma anche di più. Condivide col suo maestro il fatto di avere una biografia che comunque rimane un po' avvolta nel mistero e nel corso del video magari ne parliamo. Infatti a tutti gli effetti questa mostra che è straordinaria per il fatto di essere il punto di arrivo di una ricerca storico-artistica durata anni ha anche in sé l'aspetto molto interessante di essere quasi il frutto di una vera e propria indagine e che consente a noi come osservatori di farci un'idea anche di questa persona. Non abbiamo elementi incontrovertibili per capire qual è la psicologia di cieco ma viene naturale affrontando questa mostra a bozzare una comprensione anche umana di questo personaggio. Ed è un aspetto che ho trovato abbastanza notevole, l'idea di avvicinarmi a un individuo intravedendo qualcosa della sua anima pensando che questo individuo è stato dimenticato per secoli. Ma prima di parlare di cieco e della mostra a lui dedicata è necessario come sempre allargare un attimo l'obiettivo. Buongiorno, come stai? Spero bene. La mostra si intitola Cieco del Caravaggio, l'allievo modello. È in corso all'Accademia Carrara della città di Bergamo. Sarà visitabile fino al 4 giugno 2023. È uno degli eventi di punta di una manifestazione ancora più grande che è Bergamo e Brescia, capitali della cultura. Non si può non parlare della rinascita della città di Bergamo in questo momento. Se non avete vissuto in un bunker antiatomico che è un comportamento che personalmente non mi sento di giudicare, saprete che Bergamo non viene da un periodo facile. Vabbè, quale città viene da un periodo facile? Io sono di Genova, noi passiamo da un periodo difficile a un altro. Però sicuramente appunto Bergamo è legata ovviamente alla pandemia. È stata a suo malgrado il cuore dei contagi all'inizio. È associata purtroppo a livello mediatico anche a quell'immagine orribile dei camion della morte che uscivano dalla città. Quindi stiamo parlando di una cittadina che è stata profondamente abbattuta e che finalmente adesso sta risollevando il capo. Ed è naturale, come accade in questi casi, che ci sia una forte volontà di rilancio, anzi di superamento. Bergamo ritrova un orgoglio in cui vuol far vedere anche di essere una città d'arte. Insieme alla città di Brescia, che è un po' una città gemella per tanti aspetti, sono state elette, quest'anno giustamente, secondo me hanno fatto benissimo, capitali della cultura e presentano tantissimi eventi correlati. Uno degli eventi di punta è proprio questa mostra dedicata a Cecco del Caravaggio che in realtà era in cantiere da un po' di tempo. Era già in fase di progetto prima che la pandemia scoppiasse. Quindi è stata rimandata di due anni abbondanti ed è stata inaugurata per Bergamo, capitale della cultura, anche in concomitanza alla riapertura del museo in cui è ospitata, cioè l'Accademia Carrara, che negli ultimi anni ha subito un restyling a tutti gli effetti. Presenta un allestimento nuovo di Zecca, quindi è anche un'occasione nel momento in cui si va a visitare la mostra per vedere la nuova collocazione della collezione dell'Accademia Carrara, che è una collezione anche molto interessante perché è stata veramente riunita da collezionisti. Non sono opere di cui il Comune o lo Stato sia appropriato con la caduta degli ordini monastici, per esempio, ma sono proprio nuclei di collezioni poi donate alla comunità per uso degli artisti dell'Accademia, per quello che si chiama Accademia Carrara. Quindi è una pinacoteca da quel punto di vista abbastanza eccezionale nel suo genere. Il biglietto di ingresso comprende sia la possibilità di visitare la collezione permanente, sia le mostre, in questo caso proprio la mostra su Cecco del Caravaggio. E devo dire che mi sembra che stia avendo un buon successo, quantomeno molte persone che erano nelle sale del museo hanno notato che chiedevano a più riprese ai custodi e ai volontari dove si trovasse la mostra. Quindi era proprio richiesta in modo specifico ed è sta molto interesse. Ecco l'Accademia Carrara è questa, la vedete? Questo palazzo qui. Lo dico perché effettivamente quando si guarda la facciata del palazzo la mostra non sembra così ben segnalata, c'è una stele all'ingresso laterale che però non è visibile da tutte le angolazioni e da distante. Quindi ho notato che molta gente era titubante nell'entrare nell'Accademia Carrara, anche perché la porta d'ingresso era chiusa. Io ho notato che nei musei il fatto che la porta sia chiusa manda in crisi chiunque, bisogna sempre fare qualcosa per tenerla aperta e mettere dei cartelli enormi con scritto Accademia Carrara, mostra su Cecco del Caravaggio e chi per lui, perché i visitatori sono timidi e quindi anche solo l'atto di girare una maniglia ed aprire una porta comunque è un trauma turistico. Quindi sì, questo è il palazzo, entrate pure senza tema. Ok, una volta che siete dentro prendete il vostro biglietto e potete visitare la nuova Pinacoteca e la mostra che al momento è proprio quella su Cecco del Caravaggio. La mostra è importantissima anche perché presenta di tutto il corpus di opere attualmente attribuito a questo artista, Cecco del Caravaggio, 19 opere su 30 in tutto. Nel senso che ci sono 30 opere più o meno attribuite a lui al momento, nella mostra se ne trovano 20, quindi due terzi praticamente. Noi siamo ormai abituati alle mostre in cui attorno a due o tre opere dell'artista si costruisce un discorso che comprende anche tante opere di altri. Io mi ricordo una mostra di Gauguin qua nella mia città in cui c'era un'opera di Gauguin effettivamente e tanti altri discorsi collaterali attorno. Qua stiamo parlando invece di veramente una mostra monografica su Cecco del Caravaggio con quasi tutta la sua produzione, più ovviamente alcune opere di altri artisti che consentono di comprendere meglio il personaggio. Altro fattore di interesse, questa mostra è il punto di arrivo di 30 anni di ricerca. Ci sono voluti tutti questi anni per ricostruire pezzo per pezzo la biografia di questo artista e vi spiegherò brevemente perché anche se la mostra lo spiega molto meglio di me. Innanzitutto partiamo da due punti perché questo personaggio è importante per la città di Bergamo. Spiegazione più semplice, Caravaggio paese è un paese della provincia di Bergamo quindi sia il nome di Caravaggio Michelangelo Merisi sia di questo artista più giovane sono in qualche modo legati come satelliti alla città di Bergamo anche se poi Merisi è nato molto più probabilmente a Milano però la sua famiglia era legata a Caravaggio. Inoltre e cosa ancora più importante questa mostra, sì proprio questa che potete vedere a Bergamo è la prima in cui si afferma con forza che Cecco del Caravaggio sia in effetti un artista bergamasco. Prima si pensava fosse un seguace di Caravaggio di origine fiamminga ma adesso la ricostruzione documentaria porta a pensare con una buona dose di approssimazione che invece sia un artista dell'area bergamasca. Secondo punto di interesse iniziale partiamo come sempre dal titolo della mostra. Il titolo della mostra è Cecco del Caravaggio. Di nuovo vi invito a sottolineare questo del, non da ma di. Cecco del Caravaggio l'allievo modello. Questa seconda parte diventa molto chiara a chi entra nella prima sala della mostra, è un gioco di parole perché uno degli aspetti più curiosi di Cecco del Caravaggio è che ha iniziato molto da giovane posando come modello di molte opere del maestro Caravaggio. Anzi si può dire che proprio ha iniziato la sua carriera così e quindi l'allievo modello ma più precisamente il modello allievo. E qua bisogna fare un'inevitabile digressione su questa pratica che ritroviamo fin dal 1400 per cui questi artisti normalmente uomini prendevano a bottega e spesso come conviventi dei ragazzini molto giovani anche allo scopo di instradarli al mestiere di artista, di pittore. In alcuni casi erano semplicemente studenti ma in altri diventava qualcosa di più, qualcosa anche di ambiguo che per certi versi ci ricorda la pedagogia pederastica dell'antica Grecia nel senso che quel tipo di pedagogia prevedeva che un uomo più grande istruisse dal punto di vista intellettuale uno più giovane ma nel contempo instaurasse con lui anche un legame romantico, amoroso, fisico. Se parliamo delle botteghe rinascimentali e post-rinascimentali la questione è leggermente meno esplicita, non ci sono scritti come nel caso dell'antica Grecia in cui si parli o si esalti questa pratica. Quindi a livello di certezza si può dire che il mondo artistico del rinascimento e manierismo tendenzialmente è diciamo un sistema intellettuale a riproduzione maschile. Si parla quasi sempre di uomini, a parte un paio di casi che sono delle mosche bianche, quasi sempre di uomini che molto spesso non si sposano, non mettono su famiglia ma hanno comunque un atteggiamento genitoriale nei confronti dei ragazzi che prendono a bottega. Questi ragazzi che hanno dell'età che vanno dai 12 ai 14 anni quando entrano sotto la loro ala protettrice svolgono veramente una funzione sfumata che diventa quella di figlio adottivo, quella di garzone, quella di tirocinante ma anche appunto potenzialmente qualcosa di più e spesso diventano allievi dal punto di vista artistico del maestro assorbendone anche un po' la poetica. È per quello che parlo di un sistema riproduzione maschile perché l'artista padre riproduce se stesso dal punto di vista artistico tramite quelli che poi saranno suoi seguaci che porteranno il suo stile a un'ulteriore evoluzione. È come il sistema genetico ma rapportato all'arte. Gli uomini che hanno trovato un modo per riprodursi in cui le donne sono totalmente escluse. Sembra incredibile ma di Caravaggio, intendo di Caravaggio Michelangelo Merisi, non si sa moltissimo. La sua vicenda biografica è ricostruibile praticamente attraverso solo la burocrazia, cioè capiamo dov'era e cosa faceva perché ci sono censimenti, atti di vendita, tantissimissime denunce. Vabbè non tantissimissime però comunque era figura nota ai tribunali non solo per il più famoso omicidio ma era stato anche denunciato per diffamazione, per morosità, non pagava l'affitto. Quindi diciamo che questi eventi giuridici, burocratici costellano un po' la sua vicenda biografica. Però del suo lato umano si sa veramente pochissimo, si ricostruisce praticamente attraverso prove indiziarie. E lo stesso di Casi per la vicenda di Cecco. Questo perché all'epoca non si tendeva a quanto oggi o quanto in altri momenti storici a lasciare molte testimonianze scritte e c'era anche un interesse minore per il gossip per tante ragioni. Se voi vedete la maggior parte delle biografie dei primi secoli su questi artisti, soprattutto le biografie del lavoro, non c'è quasi mai il dato della vita privata. Era qualcosa di cui non si trattava, il che potrebbe suggerire che fossero più seriosi all'epoca in un certo senso, meno dediti al pettegolezzo. Però nel caso di Merisi teniamo anche conto che era un'epoca storica in cui non conveniva tanto lasciare scritta roba che ti riguardasse della vita privata. Cos'era successo infatti di un fausto a quel punto? Caravaggio ha l'immane sfortuna, che vabbè ha inciso sulla sua vita fino a un certo punto, però anche sì di vivere dopo la controriforma. La controriforma è quell'evento storico che per dirlo in maniera semplice ha rovinato la festa a tutti. È una reazione alla riforma protestante, per questo che si chiama controriforma, della chiesa cattolica che di fronte a questo grossissimo scisma, a questa spaccatura del protestantesimo cerca di riprendere il controllo. Quindi da un po' diciamo elastica che era diventata torna a essere molto repressiva, molto censoria, stabilisce proprio delle regole e le regole valgono anche per i costumi, per i comportamenti e per l'arte. Quindi tutta la vita di Caravaggio è costellata dal fatto che le sue opere non incontravano il gusto della controriforma e anche il personaggio in sé probabilmente non piaceva moltissimo per quanto fosse comunque stimato e affascinasse i committenti però. Quindi è un'epoca storica in cui non è che convenisse tenere un diario segreto ecco. È il motivo per cui noi oggi non abbiamo poi tanti elementi per essere sicuri al 100% di quali fossero le relazioni umane di questi soggetti. Questa repressione se ha colpito Caravaggio ha colpito due volte cecco del Caravaggio. Caravaggio oggi non ce ne rendiamo conto perché è un idolo assoluto però nei secoli successivi alla sua vita ha subito una damnazio memorie cioè una volontà di lasciarlo andare, metterlo tra i tanti poco rilevanti dell'arte ed è stato poi ripescato dal cambiamento del gusto della contemporaneità che invece l'ha riscoperto e celebrato moltissimo. Però ci sono artisti nel periodo del neoclassicismo soprattutto che dicevano che Caravaggio era la cosa peggiore che fosse mai capitata alla storia dell'arte. Questo l'ha detto Poussin, un pittore francese, non me lo sto inventando. Se questa cancellazione l'ha subita in parte Caravaggio è probabile pensare che l'abbia subita due volte anche cecco del Caravaggio per vari fattori sia per la sua relazione con il maestro sia per poi quello che sarà come pittore. Non si conoscono le date di nascita e di morte di cecco del Caravaggio. A differenza del maestro non lascia tracce neanche nelle cronache giudiziarie, non fa botte, non ammazza nessuno, non diffama nessuno. È un bravo ragazzo cecco. Il suo nome però lascia delle tracce sparse nelle cronache, tanto sparse che per secoli non è stato possibile capire subito che si stesse parlando della stessa persona. Si è ricostruita la sua biografia grazie al lavoro di un particolare studioso che ha cercato di concentrarsi su di lui, un esperto dell'ambito di Caravaggio che ha proprio deciso di andare a stringere l'obiettivo su cecco e minuziosamente, proprio con l'intento di ricostruire la sua vita, trovare tutti gli ambiti in cui era stato nominato o poteva essere stato nominato. Tale studioso si chiama Gianni Papi e il valore aggiunto è che la mostra in Corsa a Bergamo è curata proprio da lui. Quindi la mostra dà la possibilità di vedere il risultato finale di 30 anni di lavoro di questo studioso che ha ricostruito la vita di cecco del Caravaggio. È questo che rende la mostra un'occasione irripetibile per chi vuole avvicinarsi non solo al personaggio ma anche al metodo con cui la storia dell'arte può ricostruire la vicenda artistica di una figura di pittore che non è così facilmente riconoscibile. Il metodo di Gianni Papi è stato molto affascinante e ve lo riassumo veramente con tre parole per non dilungarmi. Il punto di partenza come testimonianza non proprio diretta ma quasi è stato un sonetto seicentesco che attribuiva a cecco del Caravaggio un'opera presente in mostra al momento che è la cacciata dal tempio. Partendo da quello negli anni 40 Roberto Longhi che è stato un importantissimo fondamentale storico dell'arte grazie a questa attribuzione era riuscito ad estendere la paternità di altre tre opere a cecco del Caravaggio con delle intuizioni anche molto notevoli dal punto di vista del riconoscimento del tratto e che effettivamente a guardare le opere sono molto puntuali. Tra l'altro anche facendo riferimento a opere che sono in collezioni private quindi non le aveva sotto gli occhi adesso che c'è la possibilità di confrontarle dal vivo e in mostra praticamente a distanza di poche sale queste intuizioni si rivelano tanto più veritiere. Ecco quindi finiamo negli anni 50 che abbiamo un corpus di quattro opere di cecco del Caravaggio figura che ricorre anche in altre testimonianze sempre chiamato cecco del Caravaggio. Poi abbiamo un altro documento molto importante della Pasqua del 1605 un censimento fatto a Roma in cui si registra che Caravaggio Michelangelo Merisi vive in un dato appartamento insieme a un Francesco Garzone. Ma il momento dal punto di vista storiografico più importante e che porterà Gianni Pappi a indagare la storia di cecco è un brano che emerge nel 1986 in Inghilterra. È un documento che in Italia non si conosceva e che viene portato alla luce in quel frangente in cui un viaggiatore inglese di nome Simons aveva tenuto una sorta di diario della sua visita a Roma 50 anni dopo la vita di Caravaggio neanche tantissimi anni. Ecco Simons visita la collezione Giustiniani in cui si trova un'opera di Caravaggio molto famosa cioè l'amor vincitore che tra l'altro era in fase di vendita e nonostante fosse un dipinto molto ammirato era anche considerato un po' sconveniente. La famiglia Giustiniani lo teneva dietro un telo e lo faceva vedere solo a pochi intimi perché c'era qualcosa di un po' conturbante in quest'opera. Bene, Simons proprio come ospite ha evidentemente la possibilità di sentire un po' di gossip parlato. Quello che in Italia si diceva e non si scriveva e lo riporta in una sorta di mix tra inglese e italiano in pratica dice mi hanno raccontato che il modello di questo dipinto l'amor vincitore era un ragazzo che stava con Caravaggio era il suo ragazzo e usa proprio own usa is usa proprio ragazzo come se gli appartenesse e non contento Simons precisa che dormiva con lui questi fantastici eufemismi che per secoli hanno generato ogni tipo di illazione contro illazione ma non ci interessa la questione importante è che Simons lo nomina dice questo ragazzo si chiamava Checco del Caravaggio e ci sono poche possibilità che si tratti di qualcun altro. Questa ricorrenza ossessiva di questo cieco Checco Francesco del Caravaggio che gli gravitava attorno come un satellite è difficile pensare che non si tratti sempre della stessa persona ed è interessante scoprire che ha iniziato come suo modello essendo probabilmente un ragazzo molto bello molto attraente ha posato per delle sue opere sicuramente l'amor vincitore almeno a quanto è stato detto Simons ma Gianni Papi piano piano ha la possibilità essendo così riconoscibili i volti di Caravaggio di rendersi conto che questo Checco è stato modello in diversi altri suoi dipinti. Nello specifico se ve lo state chiedendo un elemento che usa Papi per riconoscere Checco nei dipinti di Caravaggio sono le orecchie. La forma delle orecchie di Checco è molto riconoscibile laddove ha fatto da modello al maestro e oltre all'amor vincitore l'altra opera in cui ha fatto da modello è sicuramente questo stranissimo San Giovanni Battista che è uno dei tanti San Giovanni Battista dipinti da Caravaggio ma è certamente uno dei più particolari. Intanto è la prima e unica volta in cui San Giovanni Battista viene rappresentato nudo integralmente di solito è coperto in parte da una pelliccia nelle opere che lo ritraggono ma poi è molto sorridente molto ammiccante molto in posa e tra l'altro nonostante sia abbastanza strano trovare un San Giovanni Battista nudo e ammiccante la cosa che lo rende ancora più particolare è che Caravaggio non era un grande pittore di nudi non era un qualcuno che se poteva metterti un personaggio nudo lo faceva come l'altro Michelangelo. No tendenzialmente Merisi ha fatto pochissime opere di nudo integrale e quelle pochissime sono le opere in cui Cecco ha fatto da modello. Il famoso amor vincitore che oggi si trova in Germania non è prestato alla mostra però invece il San Giovanni Battista dei musei capitolini di Roma lo possiamo vedere nella prima sala della mostra in tutto il suo splendore così da poter ammirare il Giovanni Cecco nei suoi anni da modello per il maestro. Un altro momento importantissimo nella ricostruzione di Gianni Papi è quando un'altra studiosa rinviene un documento del 1619 quindi facciamo un salto in avanti in cui si dispone il pagamento a tre pittori per la decorazione di una cappella a Roma e uno di questi tre pittori è un tale Francesco che viene nominato per nome e cognome in tutto il corso dei documenti tranne una volta in cui quasi per sbaglio lo si nomina Francesco del Caravaggio. Ecco quindi a meno di non aver preso un abbaglio questo documento fortunatissimo permette finalmente di scoprire il cognome apparentemente di Cecco ovvero Francesco Boneri. In questi documenti ricorre come Francesco Boneri e solo una volta come Francesco del Caravaggio. Questo ha consentito a Gianni Papi di ristabilire una volta per tutte quale fosse il suo vero nome e a questo punto di restituire anche al povero Cecco le sue origini perché Boneri è un cognome tipico dell'area bergamasca. Addirittura c'era una famiglia di pittori e questo è registrato che si chiamava proprio Boneri e quindi può darsi è facile ipotizzare che questa famiglia avesse messo il ragazzino a bottega da un pittore conterraneo come lo stesso Caravaggio che era appunto originario dell'ambito lombardo. Quindi in questa mostra per la prima volta si fanno due cose si presenta Cecco del Caravaggio come pittore dell'area bergamasca e gli si restituisce il suo vero nome. Ogni opera lui attribuita viene segnata come di Francesco Boneri. Gli viene in pratica restituita la sua identità non è più solo il ragazzo di Caravaggio ma è una persona vera con una sua identità in carne ed ossa e la mostra vuole proprio dirci questo anche perché al di là del suo legame con il maestro di cui non si può non parlare quello che ci vuole dire la mostra è che questo individuo non è stato solo un satellite attorno alla figura mastodontica di Caravaggio ma è stato anche un pianeta a sé dal punto di vista artistico. Ha uno stile che ovviamente discende da quello di Caravaggio ma che si affranca poi da lui. Quando diventa adulto e si affranca dal Caravaggio si mostra come un pittore poco ortodosso. Se voi svolgete le sale della mostra vedrete che molte sue iconografie sono abbastanza poco praticate addirittura sono sue invenzioni. Prende per esempio lo spunto del maestro delle nature morte con gli strumenti musicali e lo amplia tanto poi da influenzare altri artisti bergamaschi. Fa molti di questi dipinti profani di fabbricatori di strumenti musicali però vestiti molto elegantemente che sono proprio i dipinti che mi hanno fatto pensare a una sua origine fiamminga per questo gusto del dettaglio e che invece hanno fatto ipotizzare che fossero proprio opere destinate a una committenza molto intellettuale. E qualcosa che è abbastanza interessante che camminando per le sale della mostra non è solo suggestione ma effettivamente tutte le attribuzioni che Papi ha fatto o ha confermato di Cecco del Caravaggio sono in qualche modo sposabili nel senso che avvicinando questi dipinti uno all'altro effettivamente una somiglianza molto forte nello stile si nota di solito osservare la pittura di un artista è come a volte osservare una calligrafia addirittura un'impronta digitale quindi si vedono dei vizi nel modo di dipingere delle ricorrenze e in Cecco per esempio si nota un modo particolare sempre di realizzare le pieghe dei vestiti cioè poco sfumato le immagini sono sempre angolose c'è sempre una sorta di riverbero anche sulla stoffa nella rappresentazione dei volti anche ci sono delle somiglianze c'è un qualche elemento quasi naif nel modo in cui i corpi sono disposti e quello che ne viene fuori in generale è un artista molto anticonformista che probabilmente è andato incontro a una cancellazione anche per il fatto di non incontrare per niente i gusti della controriforma. Un altro elemento che ricorre molto nei suoi dipinti è un elemento di violenza e anche di tortura ci sono molti riferimenti agli abusi fisici non so come dire c'è un altro storico dell'arte che nel 2001 ha scritto una nota biografia di Caravaggio che aveva ipotizzato addirittura che ci fosse un rapporto tra Caravaggio e Cecco sadomasochistico perché nei dipinti di Caravaggio in cui è presente Cecco ci sono spesso degli elementi in cui sembra infierire sul corpo di Cecco che magari fa personaggi come Isacco che viene legato e sta per essere ucciso dal padre eccetera e contestualmente anche nelle opere di Cecco c'è questa ricorrenza spesso di persone legate, torturate, c'è un immancabile San Sebastiano in cui però come elemento di originalità c'è un altro personaggio che sembra girargli la freccia nel costato quindi questa ricorrenza dell'elemento della violenza. E quindi apriamo una parentesi sull'elefante nella stanza. Quali elementi si hanno per ipotizzare una relazione tra Caravaggio maestro e Cecco che fosse anche fisica e non solo pedagogica? Tanto per cominciare il modo e le iconografie in cui Cecco veniva rappresentato da Caravaggio. Molti ravvisano comunque un ammiccamento molto forte sia nell'amor vincitore sia nel San Giovanni Battista. In entrambi i dipinti c'è un po' un indulgere anche la rappresentazione del ragazzo. Sono appunto gli unici dipinti di Caravaggio di nudi integrali che hanno anche questa sorta di carica erotica. I toni con cui Simons, il viaggettore inglese, ne parla questo insistere sul fatto era il suo ragazzo che dormiva con lui. Che sì potrebbe anche voler dire che semplicemente Caravaggio si era preso questo garzone in casa e siccome non vivevano nel lusso dormiva nel suo letto perché non ne avevano altri. Insomma quello che possiamo dire e affermare senza timore di smentita è che sicuramente Caravaggio e Cecco erano compagni distanza. Inoltre l'artista Cecco in qualche modo sembra portarsi questo strascico in maniera abbastanza esplicita da adulto perché realizza una serie di opere che tra l'altro sono state precocemente attribuite a lui. Roberto Longhi aveva stabilito che una di queste fosse molto probabilmente riconducibile a Cecco e si tratta nella fattispecie di queste due opere presenti in mostra. una è un San Giovanni Battista alla fonte, un'iconografia già esistente nella storia dell'arte ma mai in questi termini. In questo caso abbiamo di nuovo un San Giovanni Battista completamente nudo senza i suoi attributi, non c'è nessun elemento che suggerisca che sia lui se non l'iconografia stessa, è in una posizione abbastanza tipica, il dipinto possiamo definirlo allusivo senza timore di turbare youtube e questa stessa impostazione la utilizza in un altro quadro analogo che è l'amore alla fonte in cui in questo caso abbiamo proprio un amor, un cupido che si abbeverà alla fonte con lo stesso identico atteggiamento, modo, la stessa impostazione però con queste grosse ali bellissime e oscure. Vuoi caso le due iconografie con cui Cecco era stato rappresentato da ragazzino proprio da Caravaggio, San Giovanni Battista e amor vincitore. Qua è come se ne rappresentasse una versione invecchiata, c'è un po' l'effetto gioventù bruciata, come se fosse l'amor che ha una crisi di mezz'età, cioè quello che dice guarda sono stato il giovane bellissimo modello di queste opere da ragazzino e adesso sono l'amor invecchiato e affaticato che si abbeverà alla fonte, fonte che ha una funzione metaforica nel senso che abbeverarsi alla fonte vuol dire anche nutrire il proprio spirito con la conoscenza, con la religione eccetera ma anche evidentemente una componente molto fisica e quindi è molto difficile guardare quest'opera senza avere il fantasma del fatto che fosse anche una riflessione di Cecco del Caravaggio nei confronti del suo passato e che ci fosse anche un che di conflittuale, ci sono degli elementi nella versione più famosa di questo amor alla fonte che suggeriscono appunto un conflitto di qualche tipo ma lì è facile che noi contemporanei proiettiamo molto il nostro modo di pensare su quella epoca, cosa che non va mai fatto ma che è inevitabile fare alla fine. Non lo sappiamo per certo ma se fosse vero che questa persona Cecco ha avuto una relazione quando era molto giovane con un artista più grande di lui che era anche molto carismatico, molto aggressivo, molto ingombrante, è molto difficile guardare a questi dipinti senza pensare che ci sia una perfetta corrispondenza nel messaggio anche nello scegliere proprio gli stessi due personaggi con cui l'aveva ritratto da giovane. Siamo nel 2023 e proprio negli ultimi anni se ci pensate è stata molto messa in discussione questa dinamica di potere in cui vi faccio l'esempio nel mondo del fumetto italiano internazionale si è parlato molto dell'ambiguità e della zona grigia che crea il rapporto tra un professionista più grande che prende sotto la sua ala protettiva un giovane talento, un allieva, un allievo e lo forma contestualmente all'avere una relazione amorosa con lei o lui. È una dinamica che per tanti anni è stata considerata relativamente nel novero delle libertà personali e che adesso comincia a essere messa in discussione perché si avverte uno squilibrio di potere e anche una irregolarità in un professionista che si avvicina a qualcuno che vuole muovere i primi passi nel suo stesso campo con l'idea di promuoverlo ma anche con un fine secondario. Ancora adesso si dibatte sulla legittimità di questa dinamica diciamo che all'epoca di Caravaggio il dibattito non c'era anzi non era quello il problema che veniva eventualmente perseguito. Certo è che se andiamo in queste epoche l'età dei giovani coinvolti è talmente bassa da farci impressione come ci fa impressione il fatto che in quegli anni una ragazzina di 12 anni poteva già andare in moglie ci fa altrettanta impressione l'idea che un ragazzino coetaneo potesse essere oggetto di mire non del tutto paterne e innocue ecco. Siamo impossibilitati letteralmente a guardare a queste epoche senza il nostro filtro attuale di giudizio. Quindi facciamo molta fatica a non attribuire muovendoci nelle sale vedendo questi dipinti un trauma di cieco da elaborare qualcosa che nel suo contesto non veniva neanche troppo problematizzato. Noi facciamo molta fatica a pensare che invece non gli abbia lasciato uno strascico e quindi lo finiamo per individuare anche nelle sue opere. Sono affermazioni che non possiamo fare una volta per tutte. Certo è che comunque questa sua trasposizione così originale del amor alla fonte che è un'iconografia che si è inventato di sana pianta che non esiste. Questa serie di dipinti affascina per la sua originalità ma anche proprio perché anche di conturbante impavido e ironico a tutti gli effetti. Trasmette l'idea che cieco fosse una personalità un po' piratesca con questo magari grosso bagaglio ma che era anche in grado di rielaborarlo in maniera autoironica e scherzosa tutto sommato trovando anche soluzioni innovative perché una cosa che caratterizza molti dei dipinti che vedrete in mostra è che questo pittore trovava molte soluzioni meta artistiche veramente raffinate che un po' discendono da Caravaggio nel suo preparare i dipinti come se fossero un set teatrale ma che vanno addirittura oltre ci sono dei dettagli nei dipinti di cecco che sfondano proprio la quarta parete che sembrano quasi chiamare lo spettatore essere parte dell'opera come questo cassetto aperto in primo piano o la trovata del quadro nel quadro nella versione originale dell'amor vincitore. Gianni Papi ha ipotizzato che fosse il pittore ideale di una serie di committenti che apposta proprio nell'epoca della controriforma volevano opere che avessero dei messaggi un po' enigmatici quasi dei messaggi in codice che fosse necessario decriptare del resto è tipico dei periodi con forte censura che si comunichi anche sotto forma di codice quindi molte delle nature morte che compaiono nei dipinti di cecco sono magari probabilmente dei simbolismi di qualcosa che in parte anche andata persa. Ha mostrato tra l'altro una grande autonomia dal modello di Caravaggio perché molte delle sue opere sono anche collegate a un altro modello quello del Bresciano Savoldo infatti in mostra ci sono opere prestate proprio di Savoldo che rafforzano la teoria che Francesco Boneri Francesco del Caravaggio sia un pittore dell'area bergamasca e non assolutamente un pittore straniero. Vi invito a visitare la mostra è veramente bella interessante volutamente non c'è luce naturale è abbastanza oscura è una mostra di cui vale la pena recuperare il catalogo perché è a tutti gli effetti la raccolta più recente di tutti gli studi che sono stati fatti in questi 30 anni relativamente a cecco del Caravaggio quindi rimarrà nel tempo anche un documento molto importante per parlare di questo artista. Un'eventuale debolezza della mostra del resto dichiarata da Gianni Papi in primis è che la ricostruzione della vita di cecco del Caravaggio è una ricostruzione indiziaria nel senso che ci sono tanti piccoli elementi che combinati insieme danno quella che si può chiamare una certezza approssimativamente ma non esiste nessuna prova regina non esiste un documento nero su bianco diciamo che siamo in quell'area tipica della cronaca giudiziaria sugli omicidi in cui si dice siamo sicuri che l'assassino indossasse quel particolare pigiama ma non possiamo essere certi oltre ogni ragionevole dubbio che quel pigiama era in quel momento indossato dal suo legittimo proprietario. Non so se mi sono spiegata dunque molte delle prove sono legate alla logica e il buon senso però ci sta che possano esserci delle ipotesi non reali non vere anche perché persino i documenti che hanno utilizzato per legare tutti questi fili non è che sono solidi in tutto per tutto magari c'è sempre il redattore che ha sbagliato a scrivere un nome magari voleva riferirsi a un personaggio invece ne nomina un altro ci può essere la persona che racconta un aneddoto ma questo aneddoto magari è passato per molti intermediari ed è mutato nel tempo quindi lo storico dell'arte attualmente ricostruisce in base a quello che ha che sono tanti i dettagli magari alcuni giusti magari alcuni sbagliati però contestualmente nonostante questa debolezza io l'ho trovata un'indagine una mostra una ricostruzione molto molto solida che ha il suo principale fattore di interesse anche per un non addetto ai lavori nel vedere come funziona il lavoro di uno storico dell'arte cosa può fare ancora oggi la ricerca di uno storico dell'arte se si focalizza su una data pista su un dato percorso su un dato individuo può arrivare a trovare dei collegamenti inediti perché magari quelle righe quei riferimenti quei nomi sono sempre stati lì sotto i nostri occhi ma ci vuole anche qualcuno che conosca la materia in grado di unire quei punti e dare un disegno d'insieme e a volte ci sono degli ambiti che sono proprio trascurati fino a che qualcuno non se li prende a carico e anche a cuore la storia dell'arte è ancora indagine viva in grado di trarre nuove risposte dal buio tramite lo studio il raffronto e la conoscenza della materia è in grado di riannodare quei fili della storia che sembravano dispersi e slabbrati di cecco al momento non si sa nulla dopo il 1620 che è la data in cui riceve un pagamento dopo di questo puff non se ne sa più niente come suo maestro qualche anno prima sembra sparire nella sottile area della storia di punto in bianco senza nemmeno una data una circostanza di morte quindi potenzialmente potrebbe anche non essere morto nel 1620 solo che non abbiamo ulteriori notizie ma il bello è che con tutte le conoscenze adesso acquisite e raggiunte su questo personaggio in futuro c'è ancora la possibilità che si facciano ulteriori scoperte altrettanto importanti e che quindi magari francesco boneri ricompaia in qualche altra notizia successiva alla data della sua sparizione nel nulla io personalmente l'ho trovato per quel poco che adesso se ne sa un personaggio molto amabile e con una biografia incredibile cioè partire come modello di cravaggio e poi diventare un artista così criptico così intellettuale e così originale pur dovendosi portare sulle spalle in qualche modo il peso tipico dei figli d'arte perché al di là di tutto lui con i figli d'arte condivide lo stesso destino abbiamo detto prima come se artisticamente fosse figlio di caravaggio e abbia dovuto portare questo carico addosso addirittura di essere eternato come sua proprietà come cieco del caravaggio e non come francesco boneri o boneri spero che l'accento non fosse sempre stato boneri se no devo rifare tutto il video io vi mando un grosso naccio e pensa se all'epoca ci fosse stata la moda degli ultimi cento anni di scrivere delle biografie tipo il prince perry e cecco avesse scritto la mia vita con caravaggio cioè io non voglio immaginare il vaso di pandora che ne sarebbe uscito tipo mi immagino una cosa del genere oggi michelangelo ha di nuovo mangiato sulla tela ed era piena di briciole ho dovuto spazzare io oggi michelangelo ha di nuovo picchiato un tizio in una locanda stiamo facendo le valigie di corsa perché non abbiamo pagato l'affitto ho scritto un michelangelo ha ucciso un tizio in una locanda e così via sarebbe stato un diario in dieci volumi credo you Grazie a tutti